Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Dopo il tentativo di occupazione abusiva sale la paura e la tensione in periferia. Stamane la polizia ha effettuato un sovralluogo nei pressi dello stabile di contrata quattrograna preso di mira dai gnoti la notte scorsa. In campo anche gli agenti della DIGOS impegnati nella ricerca di indizi utili all'identificazione degli autori dello scasso. All'ingresso del portone, forzato ancora i resti del tentativo di sfondamento, un raid andato a vuoto solo per l'intervento di una volante di polizia e per la protezione blindata dell'accesso. Le forze dell'ordine non escludono che dietro l'assalto alla loggia popolare ci sia già una regia. Una lunga mano che muove gli abusivi secondo le occasioni create, siccome nel caso di Quattrograna, dove l'appartamento a piano terra era rimasto vuoto perché l'assegnataria era morta da alcune settimane. L'emergenza casa, se non lo è già, rischia di diventare una polveriera. Avverte il segretario di Assocasa, Elio Amodeo, che considerando nulla di fatto da palazzo di città, ha inviato una nota ai responsabili del servizio politico e abitative e chiesto l'intervento di procuro e prefetto sul caos casa in città. E' una situazione vergognosa in quanto questa città è finita sotto l'altro aspetto dell'edilizia popolare. Questi illustri soggetti che dicono che amministrano la città, che hanno condannato, non hanno fatto altro che bloccare sei candieri di cui sono tutti gli alloggi finiti e che non fanno assegnazione da circa quattro anni, che si è sbloccata una graduatoria e che sta ferma. Vedo il prefetto a chiedere di scendere in campo, una volta per sempre, perché è una situazione ancora, ripeto, peggiore di quando dopo il terremoto non esiste. Ora bisogna mettere in condizione che questa gente possa vivere. La realtà è che la gente c'è che non ha la possibilità di pagare un fitto e sta con il sangue agli occhi. Allora io mi rivolgo sia al prefetto che sia al procuratore di scendere in campo con noi, o senza di noi, o farci una notifica giuridica, legale, come si voglia dire, a poter chiudere questa agonia di questa situazione.